Una videochiamata che scalda il cuore. E' questa la particolare iniziativa con cui la CISL Funzione Pubblica Tarantobrini si è voluto donare all'ASL alcuni tablet che consentiranno ai pazienti covid e ricoverati di mettersi a richiesta in contatto vocale e visivo con i propri familiari. Un'idea nata dal bisogno evidenziatosi in questo lungo periodo di pandemia di un contatto e una comunicazione tra chi è ricoverato e chi è in trepida attesa di conoscere la situazione sanitaria dei congiunti. Un regalo di Natale speciale in particolare per chi sarà costretto a vivere questo periodo di festa lontano dai propri effetti. Abbiamo versato a chi è in quelle condizioni, a chi non può parlare con i propri cari, a chi non ha la possibilità di avere una parola di conforto, a chi può terminare la propria vita senza guardare in faccia i propri cari. Il telefono non sempre viene usato in maniera adeguata, molte volte sono gli infermieri che, bontà loro, grande rispetto verso questa categoria professionale, cercano di avvicinare le persone. Allora noi abbiamo pensato a dei tablet che siano un poco più grandi e diano la dimensione umana a una condizione che è al limite dell'umano. Abbiamo pensato a questo come nel solco scavato già a inizio d'anno quando insieme alla CISL tutta abbiamo regalato dei ventilatori polmonari quando non si trovavano in giro e ancora adesso insieme alla CISL funzione pubblica regionale delle analizzatori di emogas analisi da impiantare nelle autoambulanze del 118. I dipendenti della sanità nella propria interezza. Allora noi dobbiamo dare grande rispetto a loro e grande rispetto ai nostri malati. Questo danno sociale che è intervenuto grazie per colpa di questo Covid, insomma in qualche modo deve trovare un ristoro. Nell'attesa di una cura definitiva, sperando che questa possa avvenire in tempi brevi, cerchiamo di alleviare le sofferenze.